Ciao! La GoPro mi ha cancellato alcuni file, quindi beccatevi questo video! In questa puntata di Radiomacello Trip, tampono una sbucci e sgambero. Parlo a un casco in preda al delirio. Qualcuno decide di fare un riposino a bordo pista. Tolgo le bucce di banana dal cancelletto. Tuffio l'impionici e dove trovarli. Indico cose a caso mentre vinco. Torno a scuola, 1 più 1 uguale 2. Questo e molto altro in questa seconda tappa di campionato. Sigla! Stiamo su le maniche per le qualifiche. Julio, stammi dietro che il secondo giro tiriamo per il giro. Spera di sconfire, che bello perché io sono un punto bello. Dai, andiamo a fare queste qualifiche, faceva la solita ammerdata. Tanto non contano nulla. Ci chiamo la Costanza più che altro. Oh! No, male male. Non ho avuto un giro libero. Va bene, il giro non importa. Ha fatto la Costanza e la Costanza ce l'abbiamo qua. Va bene, qualifiche andate e vediamo un po' come è andata a fine del giorno. Va bene, benvenuti in quel di Rivalolo, pronti per gara 1 insieme a tutti i cammelloni possibili e immaginabili. Una caio semi-auto. Cambierà col tacco lui. Tacco punta, tacco punta e via. Sono troppo curioso di vedere il fusto con Tia. Stiamo qua all'ombra. Prendete il fresco. Sempre le solite robe. La pista è solita. Per le gare qua alzano un po' i salti, quindi un paio di rampette sono fatte bene. Completamente scoppiate, non c'è più olio dentro, niente. È finito tutto. Dai Ricci, gara pulita, tranquillo, stai sereno. L'ingresso qua è criminale. Non si abbassa, però no? Eh sì, però dovrebbero abbassare, spero. Vediamo le nostre solite partenze di merda. Vieni, vieni. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ah, porca troia. E vabbè, non so quanto ho fatto. Eh, si è spiattellato per bene. Come cazzo ha fatto a finire lì? Dal salto là, forse. Ha fatto una merita di cagate il primo giro. Ah, cazzo, col semi-auto. È successo. Peccato. Buon sì, io ero secondo. Sì, sì, no, secondo. Va la gara, bravo. Un sto arrivando. Arrivava dietro, lo so. Lo so, lo so. Non so quanti giri mancavano. Perché dai dei cavalli al motoreno, perché te qui di velocità costante, il motore fuori giri, ma non... Eh, sì, non va, non va. E lì, e lì, fissa lì. Non va di più. Qua dov'è? Va bene, siamo qua, pronti per gara 2. Che palle, la partenza, il mio caro. Ma poi tutti insieme mi rinorso il cazzo, che... Ma devo... Faccio una fatica. Dai, calma, stai in piedi. Stai in piedi. Ma pure è bagnato. Non l'ho mai fatta, sta roba, eh? Palla, palla. Aspetta. Aspetta che metto il cavalletto. Aspetta che metto il cavallo, è un progetto che non stai in piedi. Ma faccio un test! Grazie a tutti. 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 Hai rotto finalmente questa cosa? No, no, anche l'anno scorso ho vinto qua. Anche l'anno scorso ho vinto. È pronto. È primo? Non c'è? Non c'è. Basta. Riccardo! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Molto bene. Un sacco di uno a Rivarolo. Molto bene, Rivarolo è la pista sempre preferita. E niente, io direi che vabbè, io ne approfitto con te per i suoi saluti finali. E ci vediamo alla prossima gara ad Arfo. E come al solito solo gas. Solo gas. Solo gas.